Una cosa fondamentale. Soprattutto per Cristiano Biraghi, quella con l'Inter non sarà una sfida banale. Alla beneamata, il 24enne terzino sinistro di Cernusco sul Naviglio è approdato all'età di 11 anni, praticamente bambino. Un esordio da ricordare, appena maggiorenne in Champions League, gestione Benitez, 24 novembre 2010, in sostituzione di Goran Pandev nel corso di Inter 20, 1-0 a golla di Cambiasso. Quindi un lungo girovagare tra Juve Stabia, Cittadella in B, Catania e Chievo in Serie A e Liga Spagnola lo scorso anno nel Granada. Da luglio ingaggiato a titolo definitivo dal Delfino nell'ambito dello scambio con Gianluca Caprari che dal prossimo anno vestirà il nerazzurro. Non mi fate paura. Come? Non mi fate paura. No, è proprio scontatissima, però doverosa nel contempo. Partita speciale per te. Sì, è normale. È stata la mia squadra per tanti anni, la squadra della mia città, la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo. C'è un pizzico di rivals? No, non c'è rivals. Sicuramente è sempre una partita di calcio come tutte le altre, però come tutte le altre non è perché comunque, ripeto, è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra, quindi è una partita un po' speciale. Nessuna vendetta da consumare? Assolutamente. Società come l'Inter ha fatto una scelta su di me e giusto o sbagliato che sia, comunque io l'accetto e non porto rancore per niente. Senti, si diceva dell'abbio stentato dell'Inter, un solo punto in due partite. C'era da aspettarselo oppure una sorpresa per te? Beh, visti i giocatori magari può essere una sorpresa che l'Inter abbia solo un punto perché comunque è una squadra veramente forte a livello di organico. Credo che sia appena al di sotto della Juve come qualità di giocatori. Però magari ci può anche stare visto il cambiamento che c'è stato. Per tutte le vicissitudini? Sì, però non dobbiamo farci ingannare da questo, dalla classifica perché guardate la Juve l'anno scorso. Tra te e Candreva, chi la spunterà? Dopo la partita vedremo. Sì, sicuramente è difficile. Candreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento. È un test forse più difficile dell'anno per me direttamente, però sono tranquillo, sto bene e domenica si vedrà.